Siamo arrivati allo sport, parliamo di calcio. Domani alle 17.30 Pescara a Monterosi, oggi la conferenza stampa pre-partita. Per sapere che cosa si è detto abbiamo in collegamento in diretta il nostro Enrico Giancarli. Enrico, buongiorno. Raccontaci. Buon pomeriggio Marina, in diretta dall'EKK Hotel. Terminata da poco la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Alberto Colombo in vista del match di domani. Fischio d'inizio alle 17.30 Stadio Adriatico, arriverà il Monterosi. Ed è stata una conferenza stampa particolare perché è iniziata con il bollettino medico che ha riguardato proprio il tecnico biancazzurro. Che si è presentato con due vistosi cerotti, uno al collo, uno all'orecchio. Spiegherà tra poco lui cosa è successo. Sulla squadra non ci sarà Edoardo Vergani, non convocato per il problema alla schiena. Prima convocazione per Aloy per riassaporare, un po' come è successo per Crecco a Foggia, il sapore del gruppo e della partita, ma ancora non è pronto per giocare. Cuppone partirà dalla panchina. Ballottaggio in mediana tra Craja e Palmiero. Ballottaggio in attacco dove Tupta, Desogus e Colai si contenderanno due maglie al fianco del confermato Facundo Lescano. Cosa è successo al tecnico Colombo? I dettagli sulle anticipazioni sulla partita di domani li ascoltiamo nei passaggi salienti della conferenza stampa con le immagini curate da Diego Martelli. La prima domanda è scontata. Che succede? E poi come sta la squadra in vista di quella che possiamo definire difficilissima di partita perché il Monterosi magari non avrà l'attrazione mediatica di altre squadre, però sta facendo bene. Grazie. Allora partendo dal bollettino medico. Se vi ricordate già quest'estate avevo un cerotto su un orecchio e avevo asportato un neo che dopo l'analisi purtroppo è risultato essere un melanoma. E visto lo spessore, il protocollo prevedeva alcuni esami che dovevo fare e l'ultimo atto era un'operazione dove si diceva di riallargare i margini, insomma ripulire i margini di questa lesione e asportare dei linfonodi più vicini per poi essere analizzati. Quindi lunedì sono stato operato e sono stato dimesso fortunatamente mercoledì dall'ospedale di Chieti e quindi tengo a ringraziare sia il professor Croce e la sua equip che mi ha operato così come tutti i dermatologi che mi hanno e mi stanno seguendo. Speriamo appunto che poi non sia nulla di più serio di quello che può apparire. Però ci tenevo ad essere presente, nonostante appunto ci siano dei segni evidenti, perché ho bisogno dei ragazzi. Io ho bisogno di loro e ho fatto di tutto per esserci e soprattutto per dare l'esempio. Perché abbiamo chiesto dei sacrifici quando eravamo in emergenza a dei giocatori e quindi credo che anche in questa circostanza, essendo l'allenatore, voglio dare l'esempio e essere, anche se non sono al 100% delle condizioni fisiche, però voglio essere presente. Credo che anche la mia presenza possa essere di supporto e sostegno alla squadra. Al di là di questo, parliamo di Monterosi. Come hai detto bene tu Enrico, è una squadra che sta facendo bene, è una squadra di categoria, con giocatori importanti, mixati a dei giovani che già l'anno scorso hanno fatto un girone e mezzo di ritorno ottimo. Cioè il girone di ritorno più una parte del girone d'andata a buoni livelli, tant'è vero che c'entrarono l'accesso ai playoff. È una squadra che alterna pressione a fasi di attesa perché sa quello che vuole, sa quello che deve fare e quindi il pericolo è che l'aver fatto una grandissima prestazione a Foggia ci dia quell'euforismo che venga scambiato, come dicevo, per entusiasmo nel senso negativo. Perché ormai quello che è stato fatto a Foggia va nel dimenticatoio. Quello che è importante è quello che dobbiamo andare a fare e lo dobbiamo fare al meglio di noi stessi, visto che abbiamo di fronte un avversario che a differenza del Foggia, che magari ha delle doti tecniche qualitative generali superiori a molte squadre, ma magari veniva da un periodo di risultati negativi dove le incertezze potevano affiorare nei giocatori. Qui non troviamo una squadra di questo genere, qui troviamo una squadra che sa il proprio valore, sa quello che deve fare, sa come sta e ha delle certezze. Quindi sarà una gara molto molto complicata e se la dovessimo affrontare nella maniera sbagliata, con presunzione, come dico sempre, troveremmo delle brutte sorprese. Grazie mille. Nonostante abbia delle tumefazioni in volto e delle difficoltà, soprattutto nella prima parte della settimana nel poter fare allenamento, ha stretto i denti e ha fatto di tutto per esserci. Quindi domani comunque sarà della partita intesa come disponibilità e questo non fa altro che aumentare i motivi di orgoglio di avere un gruppo del genere. I dubbi sono tanti, perché le letture possono essere differenti sotto il piano tattico. Ho visto il Monterosi che sa alternare, come dicevo prima, momenti magari di fase di attesa a momenti di pressione più alta. È una squadra che in alcuni elementi ha una gamba importante per le ripartenze. Quindi se noi dovessimo forzare delle giocate, se dovessimo sbagliare anche nelle letture preventive, rischieremmo di subire delle transizioni che possono farci male. Ecco perché a volte uno può pensare un giocatore piuttosto che un altro in alcuni frangenti. Un esempio potrebbe essere Palmiero-Crasia. Palmiero sicuramente sotto il profilo del palleggio può essere un giocatore che dà molto. Al contempo se pensiamo che ci siano giocatori come Carlini o nelle ripartenze possono darti fastidio o vorremmo anche avere come sempre una fase di aggressione importante, allora Crasia diventa un giocatore che sotto questo aspetto può essere non secondo a nessuno in questo momento. E allora le decisioni non sono semplici da prendere pur sapendo che ho una squadra che fisicamente sta bene. L'importante, ripeto, è che stia sul pezzo e che non faccia un errore di sottovalutare un avversario come il Monterosi, come ce ne sono tante altre. Ma se dovessimo fare questo errore sarebbe un gravissimo errore di non capire che questo è un momento fondamentale per la nostra crescita. Io non guardo classifica, non guardo obiettivi, guardo di giornata in giornata. E oggi è il momento di dimostrare che anche sotto questo aspetto la squadra sta maturando e sta o può diventare una grande squadra. Quella di non cadere in questi errori di sottovalutazione, semplicemente perché tu arrivi da una grande prestazione con una squadra che sulla carta deve recitare, reciterà sicuramente un campionato importante, cioè il Foggia, e solo perché hai fatto bene e affronti una squadra che non ti dà gli stimoli solo sotto il nome, non sotto l'organizzazione e la qualità, tu possa cadere in questo errore. Non lo accetto e non lo voglio nemmeno vedere, quindi su questo batteremo forte fino a domani prima della partita. Queste dunque Marina le parole del tecnico biancazzurro Alberto Colombo, a cui facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea.